La mia c'è la mamma La mia c'è la mamma Questi sono gli stappadores Grazie Grazie Grazie. Mamma, lo stesso sto andando con lei, è una caldozza. Sì. Sì, qua c'è la cinta. No. Iniziata? No. Ho capito che parlavo di... Pesso di patate. Praticamente non stai facendo. Grazie. Eh, un po' salato, ma leggermente. Questo ha fatto? No, questo non è fatto. La colla di aspirato? Ce l'hanno fatto... L'aveva aspirato prima. Vedi. Ma te ne ce l'hanno di fare aspirato. Piccolo oppure... Comunque, con delle cipolle. Ognuno le mette come vuole. Poi si mettono le patate tagliate a radini. Non solo per risaltare, ma anche perché sono cose preziose che forse non abbiamo apprezzato abbastanza. Le pleante così, dove c'erano queste... I suoi quadri piccioletti. Tutto. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo. Andiamo. Buonasera. 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 Questa è un'idea che ci deve venire anche a noi. Questa è una pulpa. Questa è un bastoncino? No, sono grandi. Ah, sono abbastanza grandi sceglie. No, non ci vediamo con il pane. 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 Pertanto di bruciata sì, so se ne perde uno. Anarica, vieni qua, su quattro di serata. Non vedo niente, io me la sto lasciando per quando scendiamo il motore, la ripresa. E' un po' di carattere. 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 Prima questa gente che oggi stanno vestendo, non vedevano, sono diventati loro così, capito? Alla prossima. Prima questa gente che oggi stanno vestendo, non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano. Non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano. Non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano. Non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano. Non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano, non vedevano. Grazie. Grazie.